Sì, noi siamo contenti perché facciamo questa preghiera e c'è bisogno per farla ogni tanto al nostro campo perché è bello così. Ci vengono tutti, vengono pure da fuori, danno altri campi. Facciamo la preghiera, mi fa tanto piacere, così almeno ci conoscano la gente, vedano un po' che siamo pure noi religiosi, che abbiamo gli amici che ti aiutano. Oggi noi vogliamo pregare insieme a San Francesco, un uomo semplice che ascoltò la voce del Signore crocifisso. Francesco è vissuto in un tempo difficile e violento, un tempo in cui i poveri, i deboli, i malati erano messi ai margini. Cambia il nostro cuore con la tua parola, ma che seguendo l'esempio di Francesco viviamo per gli altri e non per noi stessi. Grazie a tutti.